...dalla biblioteca nazionale di Napoli per la donna della nostra, la conoscenza del mondo islamico a Napoli. E' con noi ad accoglierci qui all'ingresso sia della nostra e sia dell'importantissimo convegno che si ridoccherà in più giorni. Il professor è il curatore della mostra nonché il relatore del convegno, docente di tutto alla università. Docente? Non sono docente di tutto, filologia più importantissima. Professore, la selezione dei volumi fatti, avete trovato materiale atto e valido per poter mettere su questa mostra? Certo, certo. Qui la biblioteca di Napoli ospita all'incirca 150 manoscritti atti e 40 e più manoscritti pubblici e soprattutto un'oscritto versione di grandissima voce. Vuole essere così gentile da presentarci il... Abbiamo qui il dottor Vincenzo Bocchi, che ha collaborato, che è in maniera un sito della selezione Manoscritti. Ho collaborato, ovviamente, con questo imperato, questa mostra molto particolare a cui tenevamo noto di realità e che pensavamo di mettere sulla variata. Quindi mi permetto di far notare al nostro pubblico della penisola sorrentina e amaltitana, non solo sorrentina e amaltitana, ma un po' in genere, un ulteriore partenariato tra una istituzione universitaria e tra la biblioteca. Cose che magari qualche decennio fa erano un po' più burocraticamente problematiche. Mentre invece adesso, con i vostri sorrisi, vedo che lavorate a braccetto, avete scelto e selezionato. Io da Sorrentino immediatamente vi permetto di chiedervi, scusate, tra i volumi troveremo Clemente Galano, il nostro concittadino che nel 1600, dal vostro assenso vedo che lo conoscete bene, però magari il volume non era altro. Questo non significa che perderemo un pubblico sorrentino, che nei prossimi giorni sicuramente verrà qua per questa mostra, perché sono sicuro che riuscirete a tirarlo con altre cose belle che adesso andremo a vedere da vicino. Professore, c'è qualcosa in particolare che dovete o ritenete opportuno additarci? Allora, questo è l'epoca a cui risale con... 16esimo secolo, una miniatura eccezionale, diciamo sotto un aspetto tecnico molto distante dai nostri cari amministrati. Ancora, vedo che vi siete preoccupati che la nostra, la mi teresa, fruibile, immediatamente, senza necessità di interfaccia, senza guida, senza accompagnatore, perché i pannelli esplicativi ci portano dentro. Per quello che è possibile abbiamo cercato di utilizzare gli acquistatori e le mani che accadevano, posso fuori e riferirà la nostra propria, ci saranno più di tutta la vita. Nel prossimo giorno abbiamo anche... Sapete dirmi gli orari e gli appuntamenti? Noi siamo aperti, siamo aperti praticamente in tutte le ore in cui la pratica aperta, cioè nella mattina, in realtà, facciamo dalle 8 e mezza fino alle 7 di sera, la vostra, in realtà, è fruibile cento e sabato. Fino a quando? Per 15 giorni, fino al 30 settembre. Quindi fino al 30 settembre c'è questa possibilità? Vorrei anche aggiungere che domenica prossima, in via eccezionale, noi saremo aperti. C'è anche la possibilità di poter venire la buona domenica prossima. È un'importante piccola chicca, in anteprima, la domenica aperta la biblioteca, perché questa mostra non è poco. Ci ringraziamo, ci rivediamo a convegno nella parte interna della... Sì, giusto un attimo, volevo... Sì, no, no. Non sentite prima, non chiedo.